Benvenuti nel mio profilo, pranziamo insieme, lascio il telefono qui e state con me tutto il tempo Allora raga, devo letteralmente sbrigarmi perché dobbiamo subito riuscire Allora, pensavo, una cosa velocissima Pane Lo besiamo, ovviamente conto le calorie di tutto Poi, al volo un po' di verdura, vado a mangiare Ce la farò, sì Mi faccio Zucchina Tu la vuoi la zucchina come ieri o no? No, no Allora, facciamo la zucchina Ora vi faccio vedere come Aspettate Come taglio io la zucchina Piccola piccola C'è Un casino Ok Mi serve un'altra No Eccolo Mettiamo gli occhiali Che sono mezza cieca Ma taglio tipo piccola 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 Aspettate Ok Mi serve il tagliere Mamma mia raga quanto è brutto andare di fretta Mamma mia Eccomi Eccomi Ciao King Ciao Io ho fatto così ieri E ieri la zucchina si è cotta velocissima Guardate Si vede Taglio la zucchina più piccola possibile Raga Ok Guardate quanto è fina e carina piccolina Ok Perché ho capito che più la taglio fina e piccola E prima si cuoce quindi E mi piace anche di più Ok Guardate che chef raga Zacc zacc Ok Poi vi faccio vedere l'olio che uso io Questa è grossa E non decisa se farmici la pasta O un pezzo di pane al volo Non lo so Ho il tacchino Quindi userò tipo due fette di tacchino Ciao King Non sono brava come te a tagliare la zucchina Però ci provo Raga guardate come ho tagliata piccola Che carina Vabbè U è tanta però Vabbè non fa niente Ok Tu che mangi amore La pizza di ieri Rimassa Si Perché ho mangiato quei tre pezzi Avete visto raga che è pure rimasta La pizza Abbiamo fatto una pizza sola in due Olè Finito Ed è rimasta Quindi Io me ne mangiavo due di quelle pizze comunque Ok Vi faccio vedere In poche parole Mi hai rubato la padella Faccio così io Apro No No scusa Vabbè Questo è l'olio del King Vi faccio vedere Un po' raga c'è Ho un po' di marita Vabbè Questo è l'olio che fa il King Con dentro il No vi faccio vedere L'aglio C'è ragione Ma perché non ho acceso la luce qua No Aspettate che accendo la luce Vedete faccio così Prendo L'aglio Così attorno No Quello è solo uno spicchio Questi qua più o meno Sono dieci grammi di olio Ma anche di meno raga Perché è tutto aglio Diciamo Ok Nuo le zucchine cominciano a cacciare l'acqua Mamma mia Quanto è brutto Fare le cose di fretta Ma tu c'hai le esercizze ancora lì Eh Ah Io non la posso mangiare Perché Nuo si scioglie l'olio Vedete Non metto l'acqua Ok Fate caso a quante volte me lavo i mani Ma me ne lavo tipo 200 volte Sì Non dubito Sì ci stanno ancora i bicchieri della colazione Andiamo tipo A 3000 noi Al giorno Ok Allora Scusatemi Vediamo questo pane Vediamo quanti grammi sono Le zucchine Che testa affatto Scusate Già mi sono scordata Ah ok Ok Infatti raga De l'olio Non è proprio poco Vabbè Va bene Facciamole qua Noi pesiamo questo pane Sì è congelato raga L'ho congelato per non buttarlo 23 40 50 precisi Ok Mi faccio questo pane Con le zucchine E Proprio per mettere Raga quanto mi piace Fa questa cosa a me E E poi prendo poco poco Petto di sacchino Solo per metterlo così Sopra le zucchine Dov'è? Eccolo Allora Questo è 50 grammi Pesiamo anche il petto di tacchino Ma perché mi si stanno a tagliare tutte le mani? Fammi girare qua Ma zitta Ok Un po' di sale Cioè raga guardate che scelto Ok Si stanno facendo Di tacchino Metto ora Questo è 100 grammi E metto 50 Il pane va in frigidrice d'aria Mettiamolo Amore ma c'è già il pane fresco qui Non lo sapevo Vabbè Guarda così Ma quanto si congela pure quello no? Eh Guarda che fa Vabbè perché sono andata di fretta raga Purtroppo non l'ho vista Ma che se andava anche No Mandami dietro Guardate che zucchinelle raga Ok Ok Sto cercando a fare il video Senza magari tagliarlo No King Ok No è questo Cosa la Piatto mi serve Questo Lo penso così Lo penso Azzerare 18 Quindi 37 47 46 55 Va bene Quindi Quante fette sono? Una Due Tre Quattro Cinque Sei Ok Perfetto Le zucchinelle A me Sembrano fatte Vero Che stanno un po' A bruciare un po' troppo Non capisco perché in alcune parti Raga Se bruciano In alcune si cuocano OLE Fatte Quindi Hiamo detto 55 grammi Di cacchino Così non devo tagliare niente Poi Tu non vuoi zucchino Allora E me le pappo tutte io Ok Una forchetta a me per favore Non mi piace raga Quando il cibo si mischia tra loro Ok Deve essere Ben Separato Perché Non mi fa impazzire il fatto si mischia Altri 100 secondi Intanto Se non mi hanno Una fetta di tacchino Raga L'acqua muore Questa pezzante col ghiaccio Grazie a lei Eh Senti Tu vuoi acqua a poco ad ora? No tu c'è Io acqua fresca Ormai si cacciava la tave Ormai Ma non è che mi ha mal di cuore Perché uso il ghiaccio con l'acqua Ma non è fatto raga Ma che piattino Ok Ok Ti faccio anche a te Il pane buschettato Amore Pinzatore Non c'è l'acqua a busta Per far vedere che pizza era Ieri No È la pinza Quella così Io ho maniato tre pezzettini Lui segnato E sei rimasta Ok Io non mi metto l'olio raga Non me lo metto Aspettate Oddio Mi vedete? Vabbè Non mi metto l'olio Scusa vita mia Non mi metto l'olio qua Allora era 50 grammi di tacchino Quanta era dei pane? Vabbè poi mi ricordo il video 50 dei pane Ricordati 40 No questo 50 L'ho pesato mi sembra Beh lo dico nel video E zucchine Ovviamente per le calorie Venite là Su IG Però Per amore calorie Ci sono Vabbè È perfetto Sto pranzo Perché a chi gli vuoi dire Che c'è Mi invidi? Non c'è mangiare niente No Guardate che bello Aspettate Vi devo far vedere che è bello Guardate che piattino raga Cioè È bellissimo Raga Perdonatemi ma Ok Vi devo far vedere il piatto Se sentite È il king che beve il tè Perché beve così? Perché se brucia la bocca E quindi Ovviamente Beve che ha la bocca aperta Prefista Assaggiamo queste zucchinelle A me così mi piacciono Assaggiate a me Sono un po' crude Però sono buone È buono È buono il Cosa che hai fatto tu Quell'olio Quasi venito E niente raga Questo è il mio pranzo Adesso Così Ok Questo è il mio pranzo Raga Buon pranzo E ci vediamo Sui G Ciao raga Anzi Vi metto il pranzo Però Muta Che mangio con voi Purtroppo Non sono mai mettata la musica Raga Mi dispiace Ciao Finito raga Ho finito a pranzare Cioè oggi top Oggi è la giornata top È andata Top Mo' per stasera scongeliamo il petto di pollo E penso che ce l'abbiamo Il petto di pollo Quindi lo scongeliamo E lo facciamo tipo con un po' di verdure E vabbè raga Buon pranzo Ciao a tutti Buona domenica raga Solo io posso cominciare la dieta domenica Ciao raga